Stavolta vedremo come replicare degli effetti su due o più tracce di Lightworks. Se volete realizzare il filmato identico a quello che vedrete tra breve, avrete bisogno di tre file. Io sono andato su Google Maps, ho digitato New York, la prima città che mi è venuta in mente, poi mi sono assicurato che invece della visualizzazione della mappa fosse presente quella del satellite e tra le opzioni ho eliminato le etichette. Vedete, basta cliccare qua, in questo modo noi abbiamo esclusivamente la mappa di New York vista dall'alto. Con un po' di pazienza facendo una zoomata per avere dei dettagli di maggior precisione, spostando la mappa sopra e sotto, cercando dei punti abbastanza interessanti per quello che volevo fare, ho catturato le schermate e in seguito ho fatto un collage. Il collage di cui parlo è questo, in effetti è formato da due schermate create sullo schermo di 1920x1080 e le ho un po' elaborate eliminando delle etichette, dei riferimenti, in modo che sembrasse veramente una fotografia ripresa dall'alto. La foto è questa, misura 1874x1820 ed è abbastanza dettagliata e abbastanza ben visibile soprattutto nella visualizzazione al 100% come vedremo tra breve. Un'altra immagine che ho creato è quella di un aeroplano, è semplicemente un aeroplano su uno sfondo trasparente, colorato, un semplice disegno riempito con vari colori. Infine, sempre su Google, ho digitato rumore aereo per trovare qualche rumore che potesse essere aggiunto sul filmato, perché si tratta di un aereo che vola su New York. Naturalmente ci sono centinaia di effetti speciali, io ne ho preso uno a caso per inserirlo nel filmato. In definitiva avremo bisogno quindi di tre file, la sagoma dell'aereo su sfondo trasparente, la mappa di New York abbastanza grande per consentire uno spostamento e simulare un volo turistico sopra New York e poi il rumore dell'aereo per rendere un po' tutto più credibile. E veniamo finalmente al progetto di questo aereo che sorvola New York. Anzitutto, come vedete, ci sono due tracce audio, non perché stereo, ma semplicemente perché il rumore dell'aereo è fatto in modo che sembrasse un continuum, infatti guardate, quando arriva qui il rumore è sempre lo stesso, lo semplicemente è duplicato, triplicato, anzi in questo caso su due tracce audio, in modo tale che quando il cursore si avvicina al rumore dell'aereo si fondono e l'osservatore non si accorge della sovrapposizione. Guardate, vedete, è un continuo. Se invece l'avessi fatto uno di seguito all'altro, nel brusco passaggio probabilmente si sarebbe sentita la variazione. Quindi praticamente è così che andiamo a esaminare i parametri delle tracce video, che sono in particolare New York e aereo, che sono quelle che ci interessano di più. Se andiamo a vedere infatti le impostazioni, le impostazioni della traccia di New York che è V2, su V2, abbiamo che c'è un certo ingrandimento, vedete l'ho ingrandita e poi man mano che si sposta da destra, man mano che l'animazione prosegue, la posizione di Y, come vedete, cambia. Mentre la X rimane sempre la stessa, la Y cambia man mano che lo spostamento appunto si verifica. Vedete, la Y cambia. E adesso andiamo a vedere l'aereo. L'aereo in effetti è molto più fantasioso, perché in effetti, vedete, man mano che cammina l'aereo, c'è la rotazione X e Y, che sono sempre le stesse, in effetti le avevo impostate perché pensavo di utilizzarle, ma in effetti possiamo farne a meno. C'è solo la rotazione Z, che permette appunto di simulare il cambio di direzione dell'aereo quando l'aereo si sposta a sinistra oppure a destra. Dopodiché c'è la posizione della X, la X pure si sposta a sinistra e a destra, quindi durante l'animazione vedremo l'aereo che appunto fa questi spostamenti e soprattutto c'è uno spostamento fondamentale che è della Y, perché all'inizio dell'animazione l'aereo si trova in basso sul lato inferiore della mappa di New York e man mano che cammina, vedete, si troverà alla fine nel bordo superiore. Ora, non ha molta importanza soffermarsi su questi parametri, sono parametri un po' casuali, che permettono di simulare il viaggio, il percorso di un aereo che sorvola New York. Guardiamo per intero l'animazione e poi dopo vedremo come intervenire. Come vedete in questo caso l'aereo sta camminando, vedete man mano si sposta, ruota a destra, a sinistra, vedete la Y, man mano che l'animazione prosegue la Y si sposta verso l'alto, la posizione di Z che sarebbe lo zoom, man mano diventa più grande, più piccola a seconda di quello che volevo fare. Vedete adesso si sta ingrandendo lo zoom, perché il valore diminuisce. Ovviamente, ripeto ancora una volta, questi qua sono parametri casuali, giusto per simulare per quanto possibile l'animazione di questo aereo. E adesso viene il bello. Anzitutto torniamo all'inizio, clicchiamo con il tasto destro e aggiungiamo una traccia video. Quindi aggiungi tracce, aggiungi traccia video sopra ed ecco qui che abbiamo aggiunto la traccia. Adesso, attenzione, andiamo qui su Aereo PNG, che sarebbe la traccia V2. D'accordo? Sulla traccia V2 a questo punto salviamo come modello. Che significa salviamo come modello? Vogliamo appunto che la traccia V2, che tutti i parametri della traccia V2 attuali siano salvati secondo un nickname di nostra scelta. Quindi facciamo Aereo New York, supponiamo, ok? E qua mettiamo come descrizione percorso Aereo Tutorial, va bene? Ok, segui e a questo punto è stato memorizzato. Ora guardate, nella traccia V1 adesso noi inseriremo un secondo aereo. Quindi riprendiamo il file da importare. L'abbiamo già importato, però lo importiamo un'altra volta. Quindi doppio clic su Aereo PNG. E spegniamo tutte le tracce, accendiamo solo questa, carichiamo Aereo PNG. E a questo punto lo inseriamo nella traccia V1, premendo il pulsante Sostituisci nell'edit di destinazione. Come vedete, è stato aggiunto, togliamo un po' questo che non ci serve, però guardate, questo aereo in effetti dura soltanto 30 secondi, perché voi sapete che di default tutte le immagini sono di 30 secondi. Nell'animazione, in effetti, io questo aereo V2 l'avevo aumentato a un minuto, per cui basterà semplicemente cliccare qui sull'estremità e spostarlo fino a che non raggiunge la stessa lunghezza dell'altro aereo. Guardate, qui andiamo a 55, 59, avanziamo fotogramma per fotogramma fino a raggiungere il minuto. Siccome i fotogrammi sono 30, ecco qua, siamo arrivati al minuto esatto. A questo punto clicchiamo di nuovo per dire a Lightworks di interrompere questa azione e teniamo premuto il tasto Shift per comunicare a Lightworks che in effetti queste apparenti contraddizioni sono proprio quelle che volevamo. Ora, se noi clicchiamo qui e rendiamo visibile tutto, ovviamente il nuovo aereo l'abbiamo semplicemente trasferito qui sopra e quindi copre tutto. Ora, sull'aereo PNG, su questo secondo aereo, su questa seconda copia, noi applicheremo l'effetto che abbiamo prima creato. Pertanto, clicchiamo su Effetti e adesso su Effetti andiamo a scegliere quello che abbiamo creato in precedenza. Quello che abbiamo creato in precedenza, siccome l'abbiamo inserito all'interno del DVE, della serie DVE, sarà presente qua dentro. Ed eccolo qua, vedete? Aereo PNG, aereo PNG della serie 3D DVE. Sarà sufficiente cliccare su questo effetto che abbiamo creato e trascinarlo sulla traccia del nuovo aereo. Ora, sembra che non sia successo niente. Vediamo se è proprio così. Facciamo andare. E sembra che non sia assolutamente successo niente, ma per un motivo molto semplice. Perché le due tracce sono perfettamente sovrapposte e i due aerei sono perfettamente sovrapposti. Per cui ci sono i due aerei, solo che non li vediamo. Come facciamo allora a differenziare i due aerei? Anzitutto, guardate, in V1 e in V2 sono presenti i due aerei. Questa è V1 e questa è V2. Guardate, le tracce sono perfettamente identiche perché è stato applicato lo stesso identico effetto, che era un 3D DVE, comprensivo di tutti i cambi di parametri, dei valori dei parametri. Allora andiamo su V1 e vogliamo vedere una differenziazione. Mi sposto, per esempio, su X, prendo X e lo sposto, ed ecco qua, vedete, l'aereo si sta spostando a sinistra. Naturalmente, quando avanza, man mano che avanza, però, siccome tutti gli altri parametri, tutto il resto dei parametri, sono rimasti praticamente identici, guardate, questi sono i parametri di X di V1, guardate, V2, l'unica differenza è nel primo tratto, vedete? L'unica differenza è nel primo tratto, per cui, se facciamo andare l'animazione, arrivato in questo istante, i due aerei tenderanno a sovrapporsi nuovamente, guardate, e dal momento in cui si sovrappongono in poi, saranno perfettamente sovrapposti e quindi non visibili. Allora, come possiamo fare per differenziarli? Beh, ovviamente, qua ci vuole un lavoro di pazienza, bisogna vedere, bisogna capire esattamente che cosa vogliamo realizzare, capire che cosa significa per replica di un effetto e, pertanto, intervenire solo sui parametri che ci interessano. Per esempio, vogliamo che questo percorso sia gemello, chiamiamolo così, solo sfalsato rispetto all'asse X, basterà andare sulla traccia V1 e fare in modo che il percorso di V1 rispetto a V2 sia differente. Allora, per esempio, possiamo far così, possiamo far così, possiamo far così, possiamo far così, e fare in modo che sia, insomma, diverso. Vediamo che cosa succede. Ecco qua, sono perfettamente simmetrici, dopodiché incominciano le variazioni che sembrano casuali. Uno va sull'altro, vedete, viene coperto perfettamente, quindi sembra che vada sull'altro. Se, per esempio, in questo istante noi vogliamo che il secondo aereo, per esempio, ecco, in questo istante, fermiamolo, vogliamo che l'aereo della traccia V1 sia nettamente più grande rispetto alla traccia V2. Perfetto, vediamo un po', e ritorno ovviamente perché il resto del parametro è rimasto identico. Però se noi interveniamo in più punti, ok, per esempio qui lo vogliamo spostare brutalmente di lì, vediamo che cosa succede. Ovviamente c'è bisogno di farsi un po' di esperienza. Vedete, si vede chiaramente che si sovrappone. Poi immaginate che cosa succede se interveniamo anche sui parametri della rotazione, per, per esempio così, e così via. Bene, ok, abbiamo dato uno sguardo a questa possibilità di creare degli effetti. Questi effetti, a seconda dei casi, verranno memorizzati nelle categorie che vorremmo assegnare e quindi saranno facilmente rintracciabili. L'unico consiglio che vi posso dare è tener presente che i parametri sono relativi all'intera lunghezza dell'animazione, della durata degli effetti, per cui se la durata dell'effetto è un minuto, anche nella replica, nel salvataggio del modello, i parametri saranno relativi alla durata di un minuto. Per cui, se volete invece applicarli su delle tracce che durano di più o di meno, ci saranno da fare delle correzioni. Ok, alla prossima!